Ecco qua. Grazie. Prego, signori. Ecco perché non mi mandi mai in vacanza da sola, maritino mio dolce. Mi ero quasi scordata che effetto fa sapere che sarebbero tutti felici di infilarsi nel mio letto. È una sensazione molto piacevole. Direi quasi eccitante. L'unico problema è che non vedo nessuno con cui... Un momento. Eccolo lì. Il ragazzo dell'ascensore. Proprio niente male. Spogliato ci guadagna. Peccato che non è mai solo però. Chissà di che segno è. La Vergine non è un segno che si incontra con tutti. Il mio ascendente è il toro. E se fosse toro? Direi proprio che è un toro. Tu, Patrizio, va a dormire questo pomeriggio. Se no tu sera sei stanco e tu non fai niente con me. Io ti ho invitato a vacanza per trombo. Tu sa? Tu sa? Sì, sì, so. E allora se tu sa, tu fa. Tu fa.